Grazie Presidente, sugli emendamenti da qui in avanti a mia prima firma anticipo già che non interverrò in illustrazione di voto, riguardano tutti principalmente la trasformazione del modello di interazione tra la consulta cittadina e le consulte municipali. Come tutti sapete nella proposta protocollata era previsto un coordinamento esterno alle assemblee dove i presidenti delle consulte municipali e il presidente della consulta cittadina si incontravano per una sorta di confronto e quindi di coordinamento. A seguito della richiesta molto sentita da parte della maggior parte delle consulte per i diritti delle persone con disabilità abbiamo optato per invece un nuovo modello, il modello prevede che i presidenti delle consulte municipali siano iscritti di diritto in consulta cittadina, quindi questo come ripeto ci è stato chiesto da una buona parte delle consulte municipali e cittadina ma anche da una parte dei municipi. Il modello, questo ci tengo a dirlo però, ha in sé alcune criticità che sono il motivo per cui io avevo dei dubbi all'inizio e per cui non è stato inserito nella prima proposta. Sicuramente l'eccessivo peso del doppio incarico, di fatto c'è un maggior numero di assemblee e di riunioni a cui i presidenti delle consulte municipali devono partecipare, quindi sarebbero impegnati di fatto su due fronti. Poi c'è anche la possibilità di uno sbilanciamento, quindi uno sbilanciamento potenziale tra le consulte e le associazioni presenti in assemblea cittadina, nel caso in cui queste ultime si iscrivesse in un numero di molto superiore rispetto al numero dei presidenti. Infine c'è anche il problema della rappresentatività territoriale, cioè di fatto i presidenti delle consulte municipali devono scegliere tra di loro tre soggetti che li andranno a rappresentare nella commissione esecutiva cittadina. E' chiaro che questi soggetti devono garantire di rappresentare tutti i territori di Roma Capitale. Quindi il modello che io avevo invece previsto inizialmente, quello del coordinamento, eliminava questi rischi, questo va detto. Ma devo dire che attraverso il dialogo e il confronto con le consulte, principalmente con le consulte municipali che appunto sono interessate da questa modifica, ho ritenuto di voler accogliere la loro richiesta. Perché di fatto la motivazione che loro mi hanno portato era quella di evitare separazioni, cioè di far sì che i territori, le associazioni e poi gli organi della consulta cittadina si trovassero in un unico luogo, in un unico contenitore. E questo, come ripeto, per facilitare il dialogo. Sicuramente questo era uno dei principi e degli obiettivi del regolamento per cui ho ritenuto di accogliere. Questo inserimento, però è importante dirlo, non garantisce di fatto la partecipazione attiva dei singoli cittadini. Questo perché lo sappiamo tutti, i municipi hanno autonomia nell'istituire le consulte municipali. Noi non possiamo obbligarli, possiamo sollecitarli sicuramente, ma non obbligarli. Quindi io da buon amministratore devo mettermi nella condizione anche estrema di non avere consulte municipali o di averne troppo poche. Per cui in consulta cittadina non avremo i territori rappresentati, non daremo mai la possibilità a cittadini singoli o a cittadini che appartengono a un certo territorio di essere rappresentati in consulta. Questo è un elemento, a mio avviso, fondamentale per cui questo modello, l'inserimento all'interno, ci tengo a dire che non esclude la presenza di soggetti singoli anche in consulta cittadina. Vedremo poi successivamente con quale modalità, una modalità sicuramente calmierata. Per cui sicuramente anticipo voteremo favorevolmente questo emendamento e altri che verranno a seguire che vanno, ripeto, di fatto incontro a questo modello che ho appena illustrato. Grazie a tutti.